Non è proprio tutto così semplice come promette lo spot. I pensionati toscani si trovano a fare i conti con il 730 versione 2015, online e precompilato, ma solo in parte. Lo SPI della Toscana fa chiarezza. Il 730 prima di tutto non arriverà a casa, andrà scaricato da internet grazie a PIN e password. Serve quindi un computer, non tutti i pensionati lo hanno e lo sanno usare. Anche i dati inseriti dalle agenzie delle entrate andranno controllati con la lente di ingrandimento. Di fatto invece si tratta di un 730 che viene messo nel sito, dove la persona poi dovrebbe dotarsi di un PIN, per cui sia dell'attrezzatura informatica necessaria, sia poi del PIN, poi accedere ed essere in grado da solo di poter controllare se il 730 è completo. Di fatto sappiamo per certo che non lo è, perché per esempio nel 730 sicuramente non ci sono tutte le spese mediche, farmaceutiche sostenute e di conseguenza l'utente e il cittadino non avrebbe la possibilità poi di detrarre quelle cifre. Da qui l'appello dello SPI a tutti i pensionati, rivolgetevi agli esperti dei centri di assistenza fiscale. Con il fai da te, se non si hanno le competenze necessarie, si rischiano guai seri. A dare una mano ci sono anche le leghe dello SPI distribuite in tutta la Toscana, dove scaricare dal web i documenti necessari per la dichiarazione o l'Obis M, la busta paga del pensionato per controllare ritenute maggiorazioni e detrazioni. Le leghe hanno l'opportunità, la possibilità di stampare dal sito dell'Inps, perché è noto che l'Inps non manda più certificazione a casa, hanno la possibilità di stampare la certificazione unica, quello che una volta si chiamava 101, poi si è chiamato FUD e ora si chiama Q, semplicemente. Stampare questa certificazione consente di verificare cosa è successo nell'anno precedente, per vedere anche lì se la situazione fiscale è stata correttamente determinata e consigliare o meno se deve fare la denuncia dei redditi, il 730 e quant'altro. Intanto sul fronte delle pensioni si apre un flebile spiraglio di luce. Mentre il neopresidente Inps Boeri ha incontrato una prima volta i pensionati di CGL e Cislewil, da parte del ministro Poletti c'è la disponibilità a un confronto con SPI, FNP e UILP. Le tre sigle lo chiedono da tempo e la prima questione sul tavolo riguarda il potere di acquisto delle pensioni. Dopo la rivalutazione piena degli assegni previdenziali fino a tre volte il minimo, i sindacati chiedono più tutele in vista di una possibile impennata del costo della vita. Se, come tutti ci auguriamo, l'economia nel nostro Paese dovesse riprendere a marciare nel senso giusto, è chiaro che di fronte a un'inflazione che può essere un'inflazione del 2-3%, noi non possiamo più tollerare che vi siano delle pensioni, cosiddette pensioni medie, che non sono tutelate da quello che viene eroso dall'inflazione. Per questo chiediamo al Governo che le pensioni fino a 5 volte il minimo, non sono quelle fino a 3, ma fino a 5 volte il minimo, siano tutelate al 100%.